Siamo fortemente preoccupati come Proloco perché la difficoltà è enorme anche per le Proloco, perché stanno vivendo le Proloco un momento di difficoltà anche economico molto importante, perché chiaramente senza eventi le Proloco si autofinanziano, quindi c'è un problema economico molto importante. Però noi ci teniamo particolarmente al Natale che non ti aspetti, quindi abbiamo chiesto con le mani e i piedi, abbiamo fatto con forza tutte le Proloco di mettersi in piedi per organizzare il brand e per mantenere il brand del Natale che non ti aspetti della provincia di Piesolurbino, che negli anni passati ha portato 260.000 turisti, tanti pullman, una grossa economia nel nostro territorio. L'abbiamo portato in formato digital, quindi partiamo dall'8 di dicembre con il Rosso Speranza, quindi tutti i 25 borghi che quest'anno sono aumentati, siamo partiti prima da 14 a 17, 18, ora siamo arrivati a 25 borghi, 25 Proloco che hanno aderito al progetto del Natale che non ti aspetti, l'8 di dicembre alle ore 17, alla stessa ora tutti i 25 borghi accenderanno il fascio di luce rosso. Rosso Speranza, quindi la speranza di questo momento che stiamo vivendo, la tradizionalità del Natale che chiaramente ci mette in difficoltà, ma abbiamo soprattutto voluto dare un risvolto alle attività economiche che negli anni hanno contribuito alla realizzazione dell'evento del Natale che non ti aspetti, in maniera digitale abbiamo messo da oggi online il natale che non ti aspetti.it e su questa piattaforma si troveranno i ristoranti, si troverà tutto quello che riguarda l'artigianato artistico del nostro territorio e sui nostri canali social avremo a varie puntate, quindi invitiamo tutti a seguirci sui nostri canali social, ci sarà Babbo Natale il 20 di dicembre che parlerà ai bambini e da tutta Italia premeremo un contest sull'albero più bello, quindi le foto che ci arriveranno, l'albero più bello verrà premiato. Purtroppo è in forma digitale, quindi l'economia un po' la vede, purtroppo abbiamo un'economia un po' buttata giù e abbattuta, cerchiamo con questi canali di aiutare i ristoratori, di aiutare i produttori tipici locali, di aiutare l'artigianato artistico, ma soprattutto di mandare un messaggio di speranza e un messaggio di acquisto locale, cioè dobbiamo acquistare locale.